Un corso di laurea triennale in diritto e management dello sport all'Unisalento, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche. Nella mattinata è avvenuta la presentazione tramite la piattaforma Teams. Un corso che si rivolge anche a chi già opera nel settore del management e del diritto sportivo, con la possibilità di seguire tutte le lezioni anche a distanza. Un evento nel quale sono arrivati i saluti del Rettore Fabio Pollice, dal decano dei giornalisti sportivi Elio Donno, di Andrea Piccini, presidente della FIPA Vlecce. Poi la presentazione del professor Luigi Merica, direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Tante le testimonianze portate dagli addetti ai lavori. Angelo Giliberto, presidente del CONI Puglia, è intervenuto, così come Nando Marino, presidente dell'EPICASA Brindisi, e Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce. Presente è anche Carlo Durante, patron della nuova pallacanestro Nardò, squadra di Serie B di basket. C'era Aristide Landi, professionista in Serie A1 di basket, Camillo Placì, responsabile tecnico della Federazione Russa di Volley, Egidio Rambone, direttore sportivo del calcio Napoli femminile, Roberto Rizzo, allenatore in passato anche del Lecce, campione italiano con la primavera dei giallorossi, oltre a Francesco Rau, responsabile tecnico del CUS Torino nel basket. La madrina del corso è stata Francesca Lanciano, campionessa italiana nel salto triplo, che si era laureata in giurisprudenza con una tesi sul doping nello sport. La madrina del corso è stata Francesca Lanciano,